Facciamo un pacco alla Camorra, l'iniziativa per sostenere i prodotti nati nei beni confiscati alla Camorra. Una iniziativa che compie 12 anni. Quest'anno al fianco del Consorzio Nuova Cooperazione c'è anche la Polizia di Stato. Vediamo il servizio di Anna Teresa Damiano e poi la linea può tornare a Claudia Bruno. Il pacco alla Camorra quest'anno non poteva fermarsi, non poteva fermarsi perché quello che ci contraddistingue è un pizzico di follia che ci spinge all'insegnamento ancora più forte in questo periodo. Un pizzico di follia perché i sogni si realizzano così, nuovi prodotti nella dodicesima edizione di Facciamo un pacco alla Camorra. Come il torrone nato dalle nocciole del bene confiscato di Teano e poi i principi di sempre. Un'economia sociale diversa, attenta, lenta, attenta alle esigenze dei più fragili. Il frantoio nata a terra di cellule è l'ultima realtà del Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata. Con Libera, Comitato Dondiana, Fondazione Conil Sud, Fondazione Roche, Cittadinanza Attiva, quest'anno c'è anche la Polizia di Stato. Nel pacco il commissario Mascherpa, graphic novel sulla lotta all'andrangheta. Abbiamo messo insieme in un pacco, un pacco alla Camorra, un pacco alla criminalità organizzata, queste due bellissime esperienze. Storie incredibili come quella dei vini Vite Matte. Due anni fa l'intera produzione dello spumante Principe fu acquistata dalla regina per eccellenza, Elisabetta II d'Inghilterra. La strada l'hanno tracciata persone come Valerio Taglione, scomparso sei mesi fa. E a lui è dedicata quest'anno l'iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra. Facciamo un pacco alla Camorra. Grazie a tutti.